Ciao a tutti, oggi vi suggerisco la ricetta per fare i coni gelato. Vediamo insieme come preparare. Per prima cosa mettiamo lo zucchero in una scodella, il burro morbido e lavorate con un cucchiaio di legno. Otterrete una crema liscia, tipo crema al burro. Setacciate tutta la farina e la incorporate man mano. Adesso aggiungete anche l'essenza vaniglia. Amalgamate ancora e alla fine mettiamo gli albumi. Gli albumi vanno messi man mano, non tutti in una volta. Adesso cosa facciamo? Scaldiamo la piastra circa 5 minuti. Dopo aver fatto questo passaggio, oleate la superficie con dell'olio. Se volete potete utilizzare anche del burro morbido. Mettiamo un po' di impasto, chiudete e lasciate cuocere circa 2-3 minuti. Avvolgete immediatamente come sto facendo io e quindi eccolo pronto. Guardate che bello! Ho arricchito la preparazione con del cioccolato fondente e granella di nocciole. Mmm che buoni! Se volete potete utilizzare anche il cioccolato bianco e pistacchio. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta.